Oggi ragazzi siamo qui con un ospite molto ma molto speciale e siamo anche su Epixel e vi ho portato la migliore God Bridger qui su Epixel Diana bentornata sul canale e benvenuta in questo video Grazie Te su Coral ormai sei vista come la migliore God Bridger giusto? Eh si Però naturalmente l'abbiamo fatto su Coral, ti ho portato e ok sapevi God Bridger benissimo Però secondo me se sei veramente una vera God Bridger devi farlo un po' in tutti i server Quindi oggi siamo qui per farlo su Epixel Sei carica? Sì Perché su Epixel? Perché un minimo di differenza c'è essendo che su Epixel si pinga molto di più Te quando ping ad esempio? A 125 Ok io pingo circa 150 quello è il ping e su Coral comunque si pinga te quando ping ad esempio? 24 24 ok io vado sui 20, 30, 40 quello è il mio ping su Coral non è stabile Quindi diciamo che la differenza un po' c'è giusto Diana? Sì Perfetto Se questo video raggiunge 2069 like io e te Diana ci sfideremo in 1v1 nelle Bedwars Oddio No devi accetta e stai zitta ok? Ok grazie E scusa Ok Allora Diana prima partita vuoi God Bridger subito? Sei proprio così carica? Sì Ok perfetto allora io ti fendo il letto ti do anche tutto l'irono che vuoi tranquilla puoi prenderti tutto Mentre bardo e ti voglio vedere subito God Bridger quindi legno e lana puoi andare o di fianco dei bianchi oppure dritta o diamanti come vuoi dire come li trovi meglio vai Oh la Diana anche i suoi pixel colpisce Attenzione ti giuro io mi aspettavo solo che te cadevi comunque abbiamo un citer contro Oddio Lol ok l'ho chillato anche il compagno sta citando se no è un team di citer è un team di citer Allora come prima partita a beccarci un team di citer è un'ottima cosa eh direi Vieni citer vieni Vai Mamma mia Diana Mamma mia Ok va bene non fa nulla che sei morta non fa nulla Però ricordare che sono un team di citer quindi è una grande soddisfazione Ok loro stanno scappando Diana in realtà li stanno anche risparmiando un collegamento a te perché in realtà tu devi farlo di signora Diana No la base prendemi il letto prendemi il letto non ci credo Eh Diana dobbiamo scappare vieni qui vieni qui qui E no c'è il bianco Oddio dì 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 no Diana non è Diana Hai blocchi di po'? Venti Ok non ho blocchi Allora due diamanti dobbiamo killarci questo pink Ok molto Diana ti conviene secondo te ora fare un god bridge in questa situazione? No per niente Beh direi Va bene allora questa volta te lo risparmio Vogliamo attaccare i pink che sono da questa parte? Vai vai Diana io sono pazzo Viero Devo dire primo god bridge l'hai fatto perfetto Guardare sempre il lato positivo nelle cose giusto Diana? Sì sì Perfetto quindi ci sta Ora si fa il secondo game dove tu fai un god bridge ancora migliore anzi ne fai più di uno Giusto signora Diana? Sì sì giusto giusto Perfetto Continuano girati un attimo voglio vedere il mantello davvero? Hai cambiato il mantello? No ne ho due Quello della off-define Ah ok Sì ma non vincularmi Comunque Diana sei veramente OP Cioè nel senso god bridge è dappertutto ormai Allora dimmi un po' la differenza tra god bridge è qui e god bridge è su coral Il pink a volte toglie i blocchi Qui su pixel? Sì sì Ok ma per quali motivo? Forse perché fai troppe clicche non credo No credo per il pink Però dove ti trovi meglio di affare il god bridge? Qui o su coral? Un po' entrambe Cioè su coral non mi ha mai tolto i blocchi Invece su coral sì sui pixel più di una volta Ok Ed è abbastanza fastidiosa come cosa Però nel senso tu non giochi mai sui pixel giusto? Qualche volta Preferisci coral e pixel dai dillo Puoi anche dirlo che preferisci coral tranquillo Ah no coral Coral ok 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 Allora abbiamo gli azzurri da eliminare il problema Hanno handstone e non ho un piccone Faccio attenti Morto Morto anche l'altro E niente E niente Madonna Mi fai letto? Sì No Faccio io faccio io Ok Perfetto Bravo Morto uno Oh No ok Forse lo elimino Guardalo il marcas Guardalo Fammi un complimento Diana Bravissimo Grazie mille Pink cosa stai facendo Sono in due Eeeh 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 Diana arrivano i pink Sono abbastanza arrabbiati Eeeh Eeeh Un è morto E un altro no Eeeh Ha fatto un clutch bestiale il pink Oh mio dio Come giusto che sia Qui si deve andare al centro a prendere Smeraldi Una win Diana è d'obbligo giusto? Diana non Godbridge arriverà qui Perché sennò è un problema Potremmo attaccare i rossi Perché sono abbastanza Se uno lo chilo adesso No niente Diana ha fatto una cavolata Sei viva? Oh si Diana non ci credo Diana dobbiamo scappare Ok ci penso io l'altro ci penso io scappa 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 A posto Diana Non ci credo Ora Diana ti insegnerò A clacciare i game Come te mi ha insegnato a fare il Godbridge E ti insegno a clacciare i game Ok Diana Allora invisibilità Mele d'oro Fireball Blocchettini Protection di livello 2 Menekman di livello 1 E già siamo messi bene Ok il pink arriva Benissimo Questo qui in teoria se riesco Ma lo posso far tranquillamente Non è solo No Vai 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 torno indietro Vieni dal Marques Non ci Bravo Dai no Allora dimmi che non è vero Cioè lui ha tirato una fireball a caso e mi ha hitato? È i pixel Allora Diana non hai capito O vinciamo questa bedwars O ti picco così Proprio Proprio Ultima bedwars Tieni tutto il tuo iron Fai il mega Godbridge Ok Diana mi fido di te Dobbiamo vincere per forza Ma come no? Ti fidi di me? Sì Ok grazie mille Diana comunque io Più ti vedo giocare Più lo penso Che veramente tu citti Come fai a fare i Godbridge così perfetti? Ci ho impiegato ore e ore Ragazzi nei commenti fatemi sapere se secondo voi Diana citta Letto rotto Eh ok va bene pixel bellissimi hit Allora i rossi sono stati eliminati Non so perché sicuramente si sarà gettato nel void Andiamo a prendere i pink Diana Vieni qui Diana vieni qui Godbridge da qui fino a lì È poco comunque No Ci scommettevo Ci scommettevo Ci scommettevo Non lo sai perché? È l'ansia È l'ansia Perché se ti dico che devi fare un Godbridge da qui e lì Te non lo fai Se ti dico fai Godbridge dove vuoi Ti allora riesci Ok non è morto Eh no È blu No Diana Non adesso Sei viva dimmi di sì 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 Ok bene Allora il mio obiettivo ora è quello di fare almeno un'armatura E poi qualche potenziamento Faccio lo sharp Beh fai sharpness e poi cerchiamo di andare al centro va bene Diana mi vogliono picchiare Non mi difendi? Eh Diana non mi difendi Ma anche da lontano mi difendi Diana Diana arrivano in due Corre Uno è morto Diana non lo blocchi per tornare Arriva Ok allora ho un diamante Dobbiamo andare al centro vogliamo provare? Ok Vai 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 Siamo rimasti noi contro il blu contro i bianchi I bianchi non sono al centro Siamo solo noi al centro Io ho quattro smeraldi Io ho due Con questo ne ho sei perfetto Andiamo base gialla ci prendiamo le pozioni e attacchiamo subito il blu va bene? Sì sì Ok vuoi che rompo io? Vuoi che rompite? Eh rompito 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 Mi faccio l'invisibilità Vi magari fatti qualcosa di Cioè non ti far l'invis Non ci credo Mamma mia Diana non me la doro Ora ora me la doro Oh mio dio Il blu è da solo in base Andiamo? Ok Perfetto vai 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 l'ho giampato L'ho giampato Ok Ok L'ho scoperto L'ho scoperto Ok No dio no Mi rompi Bravissima È un manifesto Oddio Allora te sei morta vero? Sono io contro un blu Quanta vita ha? Sì Sette No A venti di vita è full vita Ok da andare via Da andare via Ora me la doro e lo attacco Me la doro e lo attacco Ho anche una speed Non ci credo Oddio Veni qua Veni qua Veni qua Veni qua Oppi il marquez Quanto sono oppi Diana? Quanto? Brava brava Nice cheat Diana ci accusano anche di hack Per quanto siamo forti Hai capito? Quindi Diana Ti sei divertita in questo video A parte le persone che ci accusano di cheat? Avvio Ok perfetto Ti ringrazio per aver partecipato Sempre gentilissima Ogni volta che ti porto in video Io ti vedo sempre più più Ragazzi Un bellissimo like solo per Diana E vi ricordo la sfida 2069 like E queste due personcine che state vedendo Si sfideranno Un giorno In uno di uno Iscrivetevi e attivate la campanellina Bella